Ci avranno senza meno un segreto loro, perché questi... E come mai non ci stanno le donne? Perché hanno fatto sempre uomini. Da sempre? Da sempre. Sono uomini. I frati ci muovono le donne. Ah, perché hai iniziato con i frati. Eh. Eh, i frati e le donne. Quindi è l'unica... È l'unica sagra che non c'è mai stata una donna. Ah, per questo il segreto è rimasto. Eh certo, posto glielo ho detto, ne bastava una. Qualcosa usciva, sicuro. E invece non viene fuori. Ah, hai capito, ste donne. Ste donne che... Ma guarda che ci sta dando i domini. Le... Sì. No. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.